Giochi a tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Devo ammetterlo, ma non voglio ammettere il fatto che Konami in questo momento mi sta facendo sentire vecchio, ma nel contempo molto felice. Correva il 13 maggio 2008 e in tutti gli OTS Store ed edicole usciva a luce della distruzione. Set totalmente incredibile fuori da ogni logica che al suo interno contiene sia i fedeli alla luce che la carta rana scambia rana. E ora, 17 anni dopo, Konami ha deciso di ristampare. E ovviamente chi sono io ragazzi per non ringraziare Konami per l'opportunità perché adoro il set e ragazzi che c'è qua? Ci stanno le Ghost. Ci stanno le Ghost. Detto questo, andiamocelo ad aprire. Fatto tutto questo preambolo ragazzi, andiamocelo ad aprire. Soprattutto perché qua dentro, oltre ovviamente la Secret, la Ghost e ovviamente le Super e le Ultra, ci stanno le Ultimate. Quelle vecchie che sono anni che Konami non inserisce all'interno di un set. Ammetto di essere emozionato. Molto. Sono 15 anni che non apro più questa espansione. Cioè mi sento più emozionato di quando ho aperto la leggenda del drago bianco occhi blu ristampa. Andiamo con il primo e speriamo che l'onesto ci porti fortuna. Non facciamo nessun trick e andiamo dritti. Coppe di assi, le energie arcaniche ragazzi stavano, cioè venivano inserite all'interno del gioco qua dentro. Poi limite di evocazione, ok. Bel tentativo ragazzi. Disturba distruzione, va bene. E poi ho inversione di limite, viaggio del destino, Gragonit. E spalla di bambino dorata, no? Ragazzi ho le lacrime agli occhi. Io spero Konami lo rifaccia anche per altri set, tipo a salto del gladiatore. Abbiamo formazione di, maschera dell'eroe, frusta del gladiatore, energia arcana 1, primo ultra 6 massi. Ragazzi. Mia nonna mi aveva ragato una bustina e avevo trovato 6 massimo ultimate. Non voglio, ragazzi non voglio piangere, non voglio piangere. Ok, comunque si vede che la stampa è quella nuova, come era per gli scorsi set che Konami ha ristampato l'anno scorso, tra cui vabbè l'invasione del caos, la leggenda del drago bianco occhi blu, però dà proprio gusto, ragazzi. C'è scritto LODT qua. Va bene. Uomo batteria, chiamata arcana, in versione interplanetario A e arcobalino gravitazionale. Oh, ci sono anche bestia cristallo. Bello, 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 bello. Comunque se c'è la super ultra secret ultimate non c'è la rara. Andiamo con il prossimo. Tocca comprarsene un paio di cassi. Forza. No, no. Testamento della Terra, bellissimo. Uh, Helios Triomagistus. Ci stanno pure gli Helios, mamma mia. Lo sto riscoprendo con voi il set, perché sono anni che non lo apro, quindi non ricordo tutto il set, però è bellissimo. Uomo batteria. Fortuna D, carte mistiche della luce. Prossimo pack. Allora, abbiamo servitore del terrore, regina vulcanica, magia ingranaggio, maschera dell'eroe che abbiamo già trovato e servitore maniacale. Poi il resto, vabbè, rame della luce, squadra, cortocircuito e grangonit. Vabbè, per adesso è abbastanza tranquillo. Non abbiamo trovato ancora nessuna bomba. Poi dovrei informarmi. Non ricordo se la ghost sta al posto di qualche carta o se posso trovare la ghost oltre il... la scambiarana. Bellissima, bellissima. Posso sostituire le mie distrutte da Lod e finalmente avere le mie copie in condizioni accettabili. Vabbè, abbiamo aggiustamento, carte mistiche, spirale e la signora aspetta. Vi stavo dicendo, è da capire se c'è tutto o se la ghost sostituisce una delle carte che normalmente possiamo trovare. Sostituisce una super, una ultra, una secret, la ultimate. Vabbè, abbiamo scambiatore, rabbia nubiana, energia arcana sesto, magia... Uh, lumina. Lumina rara, bellissima. Le rare. Tutti che le distrattano ma hanno un fascino incredibile. Io le adoro. Mi spiace un po' che negli ultimi set non ci siano. Cioè, ci sono in set particolari con tutte rare. Però nelle espansioni normali non ci stanno più. Vuoi un batteria caricatore. Comunque, nel senso, lumina. Andiamo con il prossimo. Abbiamo un'altra energia arcana alla luna. Coppa di assi, possibilità fortunata, frusta del gladiatore. Richiama su, su... Come secret, un bel drago del giudizio. Sarebbe onesta. Sarebbe abbastanza onesta da tirare fuori, eh. Tutto lì, eh. Formazione, energia arcana, blocca deck. Ok, viaggio del destino, micropila. E in versione interplanetario. Andiamo col prossimo. Dai, su, dai. Poi, ragazzi, guarda, scatola con Jayden. Così, una curiosità che forse non conoscevate. Nel vecchio box di luce della distruzione che usciva da noi nel 2008. Jayden non c'era in copertina. Si trovava solo nei box americani. Cosa che nei box europei non c'era. Vabbè. Così, curiosità. Batteria, energia arcana settimo, energia arcana sesto, ero del destino e l'agile musa salto. Viaggio del destino, nubiano, unirana e un altro spy bambù che non ce ne priviamo, eh. prossimo pack. Allora, abbiamo magia, ingranaggio antico, testamento, regina vulcanica, limite, sigillo del padrone. Praticamente questa ridava il controllo dei mostri sul terreno al legittimo proprietario. Quindi se vi fregavano il mostro in qualche modo, voi lo cercaparravate di nuovo perché era postro. Reame, la signora spettrale e spirale di luce. Dai. Ghost? No, non credo, non l'ho visto. Ci spero. Dono spaziale, scambiatore, batteria portatile, magia. Luce annullata. Ok. Poteva essere un rico, eh. Poteva. Però, hey, ce la facciamo andare bene. Dai, su. Ricarica. Buon batteria caricatore. Ricarica. Acquitrini che potenzia i mostri acqua di velo 2 o meno. Io, tanti anni fa, così, quando ho montato barriera di ghiaccio, l'avevo messa per pompare i miei barriera di ghiaccio livello 2 di 1200 punti d'attacco. Ragazzi, non giocavo competitivo e quindi mi divertivo così con poco. Ah! Limite di vocazione, energia arcana. Rabbè, Lumiano. Adesso è da capire anche come saranno le ultimate all'interno di questo set perché di base possono essere o come le vecchie ultimate che c'erano in load, cioè con la foliatura solo sulla carta. Pure come quelle che si trovano nelle buste da torneo, dove la foliatura ultimate, la rarità, la si trova anche sul bordo. Adesso è da... Bellissima! Poteva essere ultimate, però quanto è bella, quanto è bella, però. Non c'è niente da fare, ragazzi. Load, luce all'istruzione, set incredibile. Jane, che è il primo che troviamo, e Womatt 3 a micropila. Andiamo avanti, andiamo avanti, dai. Me lo sto mangiando questo box. Cioè, so, 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 gazatissimo. Energia arcana al folle, limite, energia arcana, energia arcana, dai, dai, dai. Attacco unione, super raro, va bene. Ok, poteva essere rico. Poteva anche questa volta essere rico. Non è perché apprezzo solo determinate carte, però nel senso mi faceva comodo un rico, eh. Adesso capiamo quante ce ne sono all'interno del set. Ne abbiamo già sbustate due, credo. Ce ne dovrebbe essere almeno un'altra, se non ricordo male. Poi, oh, nel caso, lo scopriremo a fine bocca. Allora, maschera dell'eroe, testamento, energia arcana settima, formazione D, barriere di luce. Vabbè. Chiamella luce, unirana, squadra di cognizione e carte mistiche. Andiamo dritti, dai, su. Abbiamo formazione D, coppia di assi, energia, frusta del gladiatore e Womatteria. Vabbè, abbiamo Womatteria grosso. Quello da 2006, potente. Comunque, ragazzi, qua dentro ci sono tante carte da utilizzare in retroforme. Cioè, fedele, fedele al retroforma. La rana, stessa cosa. E poi, Womatteria, stessa cosa. Quindi, se ci giocate, qua dentro potete attingere a cose, eh. Dai, una energia arcana, energia arcana, cambiatore. E la Valkyrie Oscura. Vabbè, quante non sbustate di queste. Quante. E vabbè, Womatteria. Dai, su. Se esce la ghost e esce il drago del giudizio secret, ho svoltato. Mi si migliora proprio la giornata in una maniera insensata. Più che altro, devo sperare di riuscire a pullarle tutte. Ok. Non è rico. Poteva essere rico. Però mi va bene anche... Le leggo male. Aukus. Aukus. Vabbè. Vabbè, il druido. Abbiamo trovato il druido. Pulito, onesto, fa il suo. A me va più che bene. Abbiamo acquitrini, cortocircuito e inversione del destino. Vabbè. E anche arcovano gravitazionale. Allora, ci dovrebbe essere, credo, un'altra super. Allora, dai, dai. E damme sto rico. Damme un rico. Così la chiudiamo bene, eh. Energia arcana. La BNV. La ma, la coccinella dorata. Che bella. Questa pompava i life points rivelandola dalla mano. 500 ogni turno. Che poi, se non ricordo male, all'epoca la spada non si trovava così facilmente, eh. Cioè, era una cartina molto interessante a trovare. Allora, abbiamo battere portate, limite di evocazione, energia arcana, maschera, dai, su. Carta rara rana. Speravo in un'altra scambia rana. E comunque... Ne serviva più di una. Va bene, va bene, va bene. Dai, su. L'onesto. Portami fortuna. Comunque, eh, esiste anche secret, eh. Io ho avuto lì, eh. Se proprio non mi devi uscire Ghost, almeno... Non è ricco. Vabbè. Però il Ducker, cannone mobile. Che bellina. Poi abbiamo Garroth. Gragonit. Spadio la mu dorata. Eh, giustamente. Allora, prossimo. Comunque, ci sono rimasti pochi pacchi, eh. Dovrò dire addio lì da della costa, eh. Dono spaziale. Magia in granaggio antico. Formazione. Predone. Lama disco. Vabbè. Niente. Jane. Acquitrini. Spirale, dai. Ultimi tre pacchetti per sperare nella Secret, nella Ghost e nella Ultimate. Sarebbe... Sarebbe... Sensato. Però. Qualcuno mi vuole bene. Regina. Coppa di Assi. Energia Arcana. La storia della Rinascita. E niente. Vabbè. Ricarica veloce. Garroth. È Fortuna D. Dai. Dai. Ultimi due pacchi, eh. Ultimi due pacchi per tirare fuori la roba grossa. Allora. Abbiamo. Vel Tentativo. Possibilità Fortunata. Scambiatore. Regina Vulcanica. No, Inis Spirito. Quello non mi è piaciuta sta carta, ragazzi. Non ci posso fare niente. Inversione. Gragonit. Uomo Atteria. Caricatore. E chiamata. Ultimo pacch. Dai. Dai. Per favore. Dammi qualcosa di potente. Il dono. L'Energia Arcana. Energia Arcana. Energia Arc... Tocca riprovarci. Però, comunque, l'esplosione eroica. Prima che mi esce. Anche questa è da sostituire nel mazzo. E va bene, ragazzi. Il video vince qua. Spero, come sempre, vi sia piaciuto. E fatemi sapere qua sotto con un commento se voi comprirete questa espansione. Questa ristappa di questa espansione. Io metto subito le mani avanti. Due barra tre box. Dovrò per forza prenderli. Perché sono io per non tentare di trovare tutte le ultimate del set. E l'onesto costo. Old Drago Egizio Secret. Cioè, bisogna provarci. Ci devo riprovare. Allora, fatemi ovviamente sapere voi se lo acquisterete. E noi ragazzi ci rivediamo. Allora. E noi ragazzi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti.